Ciao a tutti, sono Parafranz e benvenuti al terzo videotest Oggi proviamo un classico dei coltelli, un Opinel Eccolo qua, il classico numero 8 della casa francese Chiusura di Roblox Iniziamo con un ramo secco, abbastanza grosso Vediamo che non abbiamo problemi a tagliare i rametti Chiamiamoli i rametti Ora proviamo a tagliare il ramo di netto Ecco qua, praticamente quasi spesso troviamo del coltello Però fa niente Spegliamo un pochino Ora prendiamo un ramo di netto Di diametro un pochettino più piccolo Però fa niente Come vedete qua non abbiamo problemi a tagliare le foglie e tutto il resto Vedete taglia che è una meraviglia Ormai la qualità di questi coltelli è conosciuta in tutto il mondo Dai boscaioli e da chi vuole usare anche per rata sport Per camminare e escursioni Il corso di questo coltello va dai 7,90 agli 8,90 Comunque sono sempre prezzi accessibili per la qualità del prodotto E per Parafranza è tutto Al prossimo video